Se l'ho dato Gesù Cristo. La preghiera del Padre nostro inquadra non solamente quello che è una formula di preghiera nostra verso Dio, ma inquadra una situazione nella quale noi ci troviamo. Dunque ci dà una istruzione sapienziale di quella che è la realtà spirituale. La realtà spirituale nostra è quella di esseri decaduti nel peccato e immersi in quella che è l'azione e lo spirito del maligno il quale ha conquistato il mondo attraverso la conquista dei nostri cuori. Come genere umano, quindi decaduto, si fa nascere in una situazione già decaduta, di perversione, di male, e personale perché ognuno di noi aggiunge il male che noi facciamo singolarmente a ciò che è il male dell'interumanità. Accettare questo vuol dire con umiltà mettersi davanti a Dio e chiedere una liberazione. Chiedere una liberazione dal male, liberaci dal male, l'invocazione finale, in realtà presuppone che noi riconosciamo che siamo peccatori, riconosciamo che il male nel mondo è causato dal maligno e di cui noi siamo coautori insieme con Lui. Con questa preghiera noi dobbiamo riconoscere dunque il nostro stato di colpevolezza e di incapacità di poterne uscire con le nostre forze. Perché ci deve essere detto come stanno le cose, che c'è un maligno e ma c'è un padre creatore e ci siamo noi che pensiamo di sapere e invece non sappiamo nulla. E queste realtà dunque di tipo sopranaturale e preternaturale, sopranaturale riguardano Dio, preternaturale riguardano le cose che stanno di là della nostra natura umana, e cioè quindi anche infernali, queste realtà sono conosciute per mezzo della rivelazione, vengono spiegate per mezzo della rivelazione. Dunque nello schema del Padre nostro si individua, si percepisce chiaramente quella che è la grande lotta di Dio e del maligno. Lotta che il Signore potrebbe vincere in un istante, così come la ribellione degli angeli, che ha causato quello stato demoniaco di Satana e i suoi compagni, non ha potuto nulla contro Dio. Ma la lotta si estende alle creature o al creato di Dio. e Dio vince attraverso le creature del creato. Questo è il suo metodo di lotta. Poiché il maligno è una creatura pervertita, nella natura stessa Dio mette le risorse perché la natura possa lottare contro il maligno, ma lotta per la natura che è dotata di intelligenza. Quindi gli esseri creati, intelligenti, materiali, con uno spirito immortale, sono gli esseri umani. Dunque se la finalità del demonio era far decadere l'umanità, attraverso l'umanità Dio provvede a combattere gli spiriti maligni. La lotta tra Dio e il demonio non è una lotta alla pari, è una lotta che Dio ha già vinto. È una lotta per il possesso della creazione, mediante la creazione. La scommessa di Dio, potremmo dire così, è vincere il male nel mondo attraverso un fermento divino, lo Spirito Santo suo, nel mondo, cioè attraverso l'uomo, che riconquista gli spazi perduti nella creazione, perché il demonio non ha guadagnato nulla verso Dio che è irraggiungibile a lui. Dunque nella creazione nella quale noi siamo, noi siamo chiamati ad avere questa coscienza, di questa lotta, e di partecipare da una parte o dall'altra. Noi partecipiamo per la gloria di Dio. Ecco perché la prima richiesta del Padre nostro è sia santificato il tuo nome. Cioè il nome di Dio diventi proclamato e santo, puro, in quel mondo in cui non lo si vuole nominare, perché il mondo è controllato dal demonio. Venga il tuo regno vuol dire si compia la tua presenza, il tuo progetto nel mondo creato attraverso gli uomini, così come si compie nel cielo, là dove il demonio non può arrivare, e non può giungere. Si copia in noi il tuo regno, nel cuore nostro, quello degli uomini, e questa richiesta che noi facciamo dice la scelta per Dio è rifiuto per il male. Sono le scelte del battesimo. Credi in Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo? Credo. La Santa Chiesa Cattolica crede. E rifiuti il demonio, le sue opere, le sue seduzioni, tutto quello che lui ti può, lo rifiuto. Questa scelta fondamentale tra il bene e il male è la scelta fondamentale della nostra anima. Dunque, con il Padre Nosso, noi prendiamo parte di questo schieramento e chiediamo che Dio faccia e compie tutta la sua volontà in noi, attraverso di noi, per vincere il maligno in noi, dunque la parte cattiva che è in noi, e dunque nel mondo, con la riconquista di ogni anima che non deve andare perduta nel progetto del Padre. Venghi il tuo regno, dunque vuol dire venghi il tuo regno in noi e in tutte le anime, in modo tale che la parte più preziosa della sua creazione, che siamo noi, pur essendo così piccoli, venga salvata. E le condizioni sono quelle del perdono reciproco, per essere perdonati noi stessi dalle colpe. Riconoscere questo, che siamo peccatori, vuol dire esercitare una giustizia che è quella di Dio e non la nostra, e dunque non ergerci a giudici dei nostri fratelli, perché il conflitto fra di noi è proprio il frutto del peccato. Così pure anche il pane quotidiano è il pane che ci sostiene in questo cammino di lotta, e al tempo stesso è quel pane spirituale che ci viene donato da Cristo. Io sono il vero pane disceso dal cielo, dirà, dopo aver insegnato questa preghiera. Tra l'altro, come conclusione della preghiera, viene portata questa parabola di colui che chiede tre pani al vicino di casa. Il pane è sempre il riferimento, dunque, del nutrimento necessario per la giornata, con spirito di fortezza, il pane dei forti, per poter essere sostenuti in questa lotta contro il maligno, di cui noi siamo vittime nello stesso tempo, ma anche complici quando noi pecchiamo. Liberaci, dunque, dal male vuol dire perdonaci il peccato e quindi liberaci dalla schiavitù del peccato perché noi rinunciamo al peccato stesso, rinunciamo al conflitto, rinunciamo alla superbia, all'orgoglio e a tutte quelle che sono le conflittualità con il fratello, perché si instauri in noi il tuo regno. Liberaci dal maligno vuol dire alla fine fa sì che il tuo nome santificato e il tuo regno si concluda con la nostra liberazione perché noi abbiamo chiesto, voluto, desiderato il regno del tuo amore nel nostro cuore che è la vita dell'eternità. Si conclude dunque sulla terra la lotta contro il maligno per noi e dobbiamo avere il dono nella perseveranza, nella preghiera, nell'essere costanti in questo, nel non arrenderci mai e non cedere mai alle tentazioni. Questa perseveranza finale è quella che ci farà meritare un premio, un premio per la nostra lotta, non per le nostre capacità ovviamente. Dipendiamo da Dio ma dobbiamo ammettere questo e dobbiamo scegliere di stare con Lui. Allora morirà in noi il peccato perché trionfi in noi la luce dell'amore di Dio. Dio vi benedica.